È un campo basso, cinico e spietato, quello che strappa i tre punti allo Stadio De Marzi di Avezzano nella prima giornata del Gironne F di Serie D. Massimo risultato col minimo sforzo per i molisani al cospetto di un Avezzano autore di una prova tutto sommato incoraggiante, ma che nulla ha potuto contro la qualità di una compagine tra le più accreditate alla promozione. Per la prima in campionato, Mecomonaco si affida al 4-3-3 che tante soddisfazioni ha regalato in Coppa Italia, con Gaeta per l'offensivo supportato da Franchi e Quadrana sugli esterni. In difesa c'è Di Gianfelice al posto dello squalificato Magri, con Crass a dettare i tempi in regia. Disposizione a specchio per Cudini, che schiera Capitan Musetti al centro dell'attacco, assistito dalla stella del mercato Danilo Alessandro e da Zammarchi. In mediana spazio a Bontà Pizzutelli e Brenci, con Candellori ad agire dal laterale basso. Il primo squillo è di marca ospite, all'ottavo premiato l'inserimento di Brenci, che si coordina ma non inquadra lo specchio. La partita fa fatica a decollare e per un altro sussulto bisogna attendere sino al 24esimo, piazzato di Pizzutelli dal limite che non impenserisce Fanti. Tre minuti più tardi prova a squatersi l'avezzano. Franchi se ne va sulla fascia, fa tutto bene ma spreca, calciando da posizione impossibile anziché servire in mezzo all'aria. Alla mezz'ora torna a farsi vedere il campo basso, Bontà inventa un corridoio per l'inserimento di Musetti, che trova solo l'esterno della rete. Al 34esimo ancora Bontà protagonista, Alessandro libera l'ex notaresco, conclusione di destro, palla in out. In avvio di ripresa ospiti di nuovo in avanti, punizione di Pizzutelli che non impenserisce Fanti. Al 14esimo replica l'avezzano ancora da piazzato, parabola di Quatrana dai 20 metri, deviazione impercettibile della barriera che evita il peggio a Natale. Al quarto d'ora Vanzan sfonde e serve Brenci, rigore in movimento sciupato dal centrocampista Molisano. Sei minuti dopo il 4 si riscatta, Alessandro mette in mezzo per la corrente Brenci, controllo e diagonale a seguire, che non lascia scampo a Fanti. Primo centro con i lupi per l'ex L'Aquila, è partita in mano alla truppa di Cudini. La reazione dell'avezzano arriva dopo appena 120 secondi, girata di Gaeta da fuori, palla lontana dai pali. Poco dopo, girandola di cambi da ambo le parti, Mecomonaco getta nella mischia Sicari e De Costanzo e richiama Crasse di Giacomo. Cudini risponde con Tango Rang, l'ex alba adriatica Giambè per l'autore del gol Brenci, Alessandro. Alla mezz'ora ancora bianco-verdi pericolosi, filtrante di Gaeta per Franchi, diagonale strozzato che Natale respinge di piede. Il Campobasso arretra ma si difende con ordine l'avezzano, fatica a trovare spazi. Al trentasettesimo i lupi provano a graffiare da corner, parabola velenosissima nel cuore dell'area ma nessuno dei padroni di casa impatta con la sfera. Finisce con il successo del Campobasso che sbanca il De Marzi e conferma tutte le proprie ambizioni di vittoria. Segnali positivi anche dall'avezzano in attesa di un rodaggio che lascia più di una speranza ai tifosi bianco-verdi a corsi al De Marzi. Mister, ora diciamo una vittoria arrivata da grande squadra. Non so se da grande squadra, sicuramente da una grossa prestazione, questo sì. La prima partita per noi è una delle poche competitive perché siamo usciti dalla Coppa, quindi c'è la grossa incertezza oggi sulla tenuta, sullo sviluppo, sulla prestazione che potessimo fare. Siamo stati molto bravi a tenere la partita in controllo, a fare quello che volevamo fare. L'unica pecca, forse dopo il gol abbiamo un po' abbassato il baricentro ma ci può stare, siamo alla prima di campionato. Però devo dire che è una grossa prestazione da parte dei ragazzi. Tre punti e grossa prestazione, come ha detto lei, che confermano tutte le vostre ambizioni? Siamo alla prima di campionato, le ambizioni sicuramente le possiamo trovare in strada facendo. Dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo guadagnarcelo. Vogliamo fare un campionato importante, questo sicuro. Però ci sono tante squadre che hanno allestito organici per poter stare lì. I nomi fanno poco, dobbiamo essere sempre squadra come lo siamo stati oggi e quindi migliorare di partita in partita. Mister, forse dobbiamo partire dalla reazione dopo il gol subito. Guarda, noi abbiamo fatto una buona prestazione secondo me. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, soprattutto nei tre davanti. Però io la squadra non posso dire nulla perché i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo giocato contro una squadra che è una delle candidate a vincere il campionato. Non abbiamo per niente sfigurato. Loro sappiamo che hanno grande qualità. Però forse potevamo fare qualcosa di più in avanti. In qualche occasione dovevamo sfruttare meglio queste ripartenze. Non l'abbiamo fatto. È normale che poi il campo basso è una squadra forte, una squadra organizzata, una squadra ben messa in campo al minimo errore e poi ti punisce.